pronti ok buongiorno mister ben ritrovato innanzitutto grazie si riparte con che tipo di slancio visto che comunque c'è un panetto della smaltire ma alle porte c'è anche una gara molto difficile come quella contro la roma tra l'altro dove lei ha cominciato anche il suo cammino diciamo nel calcio professionistico ma sì importante oggi è il diciamo il giorno in cui l'utinese si ritrova credo sia importante ricominciare a lavorare con l'atteggiamento giusto perché quello che è stato fatto finora dietro le spalle dobbiamo ripartire e incrementare il nostro bottino per cercare di arrivare più velocemente possibile a raggiungere i nostri obiettivi quindi da oggi ricominciare a lavorare duramente perché la prossima partita è contro insieme alla juventus una delle squadre più forti della serie a il problema è sempre lo stesso perché a livello di punti non state bene state secondo me benone perché pretende dall'udinese che arrivi nei primi cinque posti sempre credo sia del tutto assurdo siete mi sembra settimi se non sbagliatevi settimi ma al di là di questo avete un bel punteggio il problema e il punto interrogativo è la continuità finora siete andati avanti a sbalzi adesso è da cambiare metro inizio nuovo anno ci sono stati segnali importanti da genova secondo me la migliore udinese della stagione per equilibrio per continuità quindi a questo punto dobbiamo voltare pagina questa è sicuramente la cosa su cui lavoriamo da inizio stagione voglio anch'io un udinese più continua so che non non sarà facile anche perché questa serie a ci sta dimostrando che tolte le due battistrada è un po il problema di molte squadre no che alternano prestazioni molto positive altre meno io credo che sia una serie a molto equilibrata o comunque quello è stata fino fino ad adesso sicuramente per noi è un obiettivo l'obiettivo della continuità resta il nostro pallino nello spogliatoio ma è ovvio che non dobbiamo mai perdere di vista la grinta e la fame per raggiungere la salvezza perché quella che si è vista a genova secondo me è stata anche una un udinese che ha dimostrato da un punto di vista del carattere un passo avanti perché contro una squadra comunque in grande condizione andar sotto dopo 15 minuti poi l'udinese ha avuto la forza di reagire e rimanere in partita fino alla fine quindi continuità ma anche ricerca e miglioramento di questa nostra forza caratteriale la partita di genova ha dimostrato anche che insomma puoi attingere a cosiddette tra virgolette seconde linee i ragazzi sono fatti trovare pronti insomma con la roma ci sono delle essenze importanti da questo punto di vista qui insomma hai avuto delle risposte importanti a genova vero ma io credo che questo sia la testimonianza del lavoro che svolgiamo durante la settimana con tutto il mio staff con tutto con i ragazzi perché sai quando un calciatore non gioca si dice alle volte a rovescio che non giocava da tanto e quindi ha giustificato che non aveva il ritmo e io adesso a rovescio dico che 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 alcuni giocatori che non giocavano da tanto si sono fatti trovare pronti vuol dire che si sono allenati alla grande loro come professionisti e chi li ha allenati è stato bravo a tenerli sempre con il motore rodato e è normale ci avviciniamo a una partita secondo me in delle condizioni non non ottimali perché credo che non sia un mistero che fra infortuni e squalifiche difesa e centrocampo siano in grandissima emergenza il fatto di questi impegni delle nazionali sicuramente non arrivano al momento giusto siamo rischiamo di perdere altri quattro giocatori perché badu vaghe evangelista e zapata e oltre agli squalificati che conoscete se vi fate i conti speriamo di recuperare piris e domizzi perché sennò siamo in un'emergenza non ci piace lamentarci ma comincia essere un'emergenza importante per una squadra con i nostri obiettivi ecco in questi mesi qua che che allena l'udinese lei sicuramente sul piano dei giocatori individuali ha già individuato le certezze i suoi punti di riferimento ecco invece vorrei sapere quali sono da un punto di vista tattico diciamo i punti fermi di questo udinese mai su questo secondo me alle volte si è un pochino fatta confusione e questo udinese è una squadra costruita fin dal primo giorno fin da dalla sede di campagna acquisti per giocare 3 5 2 o comunque 3 5 1 1 comunque con tre difensori centrali cinque centrocampisti e due giocatori offensivi è una squadra costruita così con un allenatore che per tutto il precampionato e per tutto l'avvio di stagione ha ha giocato con questo sistema di gioco abbiamo avuto delle defezioni che io ho reputato importanti dopo la seconda dopo la seconda giornata di campionato contro la juventus che ci hanno partato per una serie di partite a cambiare ad adattarci ma questo secondo me per poi ritornare a giocare col nostro modulo nel momento in cui ho riavuto tutti a disposizione ma questo secondo me non fa che non fa che accrescere e migliorare il bagaglio di un gruppo perché l'avete visto con la sandoria ma lo vedrete in tante partite anche giocando con la difesa a tre se conosci anche altri sistemi di gioco puoi difendere con più aggressività perché il quinto centrocampista può può attaccare alto e quindi è come se dietro rimanessi a difendere con quattro difensori no? quindi il nostro modulo è il 3-5-2 però la nostra capacità in campo di aggredire l'avversario può portare delle situazioni che una squadra deve saper interpretare quindi comunque la nostra struttura è il 3-5-2 Buongiorno mister, si parla tanto di Muriel e in qualche modo lei aveva già anticipato un pochino penso quando guardava al mercato di gennaio anche alcune partite fa l'eventualità di perdere Muriel rappresenterebbe un problema per lei o il problema era forse riuscire a trovare una collocazione qui a Udine anche guardando le contropartite possibili? Io credo che storicamente l'Udinese non sia una società che si è resa mai particolarmente attiva sul mercato di gennaio ma per un motivo molto semplice perché comunque fa della programmazione il suo dogma e il suo punto fermo quindi io credo che il mercato di gennaio sia cosiddetto chiamato mercato di riparazione e credo sia giusto intervenire dove la società reputa che ci possano le società in generale reputano dove ci possano essere delle lacune o delle mancanze noi con questi effettivi da un punto di vista numerico adesso tolta la situazione di emergenza speriamo temporanea siamo completi come numero di giocatori è vero che la nostra società e i nostri calciatori attirano le attenzioni di tanti grandi club ed è normale che i nostri migliori giocatori abbiano delle offerte e questo può essere una cosa normale ma che abbiano delle offerte è normale che vadano via è tutto da vedere ma io rispondo con i fatti nel senso Muriel ogni volta che è stato bene ha giocato quindi a me è un giocatore che l'ho detto dal primo giorno su cui credo tantissimo e sono sicuro che farà bene è stato almeno nella mia gestione sfortunato perché sai tre grandi infortuni in cinque mesi ma lo ripeto lui ogni volta che è stato bene è partito a titolare con l'Empoli ha giocato con la Juventus, ha giocato con la Lazio poi si è fatto male, poi è ritornato ad essere titolare si è ritornato per l'ultima volta ad essere titolare a Palermo e si è rifatto male per l'ultima volta io ogni volta che l'ho avuto a disposizione e l'ho reputato in condizione l'ho messo in campo quindi per me non è un problema del valore del giocatore ma è un problema che è sempre stato male con me io lo stimo Mr. Salve io le volevo dire anche questo adesso a gennaio al di là del campionato il 22 c'è anche una partita importante con gli ottavi di Coppa Italia a Napoli l'ultima Coppa Italia l'Udinese comunque è arrivata in semifinale ha perso a Firenze con la Fiorentina che propositi ha per il 2015 rispetto a questo torneo che è l'unico che vede impegnata l'Udinese al di là del campionato anche perché magari i tifosi sono interessati anche a sapere se magari si può riuscire ad arrivare non dico come l'anno scorso in semifinale ma comunque a tentare di fare la scalata in Coppa Italia come hai detto tu è il nostro altro obiettivo insieme al campionato quindi noi ci teniamo e l'abbiamo dimostrato nei primi due turni anche col Cesena abbiamo giocato con la nostra formazione migliore senza effettuare un grandissimo turnover quindi questo a dimostrazione che l'Udinese tiene a questa competizione che io ci tengo ma è importante non illudere nessuno perché comunque è una competizione fatta di gare secche a partita secca che sono sempre molto difficili da interpretare e da decifrare sicuramente noi abbiamo il Napoli sulla nostra strada che è una delle squadre sicuramente in casa che ha un grande valore ma ce la giocheremo come noi sappiamo per cercare di andare avanti quindi noi ci teniamo in questa competizione non la snobberemo assolutamente Sul mercato ha già risposto però nell'ipotesi che se ne dovesse andare Murielo comunque quale sarebbe l'identikit cioè che tipo di attaccante lei avrebbe bisogno? Dovrebbe avere più le caratteristiche tipo di teroccia in grado di coprire magari più ruoli di fare la seconda punta o dovrebbe essere più una prima punta? Io credo che l'Udinese rappresenti una fucina di grandissimi talenti e quindi io credo che i nostri giocatori è normale che siano al centro delle attenzioni di tanti club il nostro attacco è stato costruito con un'idea ben precisa perché Tolto Totò di cui non serve parlare perché è un giocatore unico e ovviamente posso definire con sicurezza che è l'unico giocatore incedibile dell'Udinese gli altri hanno tutti delle caratteristiche ben precise e complementari sicuramente Terro è un giocatore che abbina delle grandi qualità tecniche ha la capacità di andare in gol ma è più di raccordo è più di raccordo fra una prima punta e il centro campo Totò è diventato ormai una punta centrale un uomo d'aria un uomo degli ultimi 20 metri e quindi occupa quelle caratteristiche e Muriel è un giocatore che abbina le qualità di punta a quelle di un grande scattista un grande velocista anche un giocatore in grado di cambiare passo di attaccare la profondità Geico che è un po' l'ultimo giocatore che avete conosciuto è forse la nostra unica punta di struttura che ci permette di far salire la squadra ti ho elencato le caratteristiche dei miei 4 attaccanti in modo che tu sappia che chi viene sostituito me ne dovete dare un altro uguale al di là se ne andrà o meno che sono decisioni che spetteranno la società le dichiarazioni comunque di Muriel hanno dato fastidio a quasi tutti i tifosi leggendo i forum leggendo su facebook tu come lei ti hanno fatto rimanere male visto quanto gli siete stati vicino tu in particolare che lo alleni ma anche lo staff intero le hai prese come uno sfogo di un ragazzino oppure anche magari come dettate da qualcun altro si sa che i procuratori a volte fanno i loro giochi ovviamente il loro mestiere io dico che a me sembra sempre strano perché queste dichiarazioni arrivano sempre quando lui non è a Udine e a me questa cosa un pochino fa sorridere perché mi sembrano anche un pochino alle volte strumentali io credo che a prescindere dalle sue dichiarazioni che in maniera molto rispettosa ma non mi interessano lui è un giocatore dell'Udinese finché è all'Udinese fa quello che dico io in campo e quello che dice la società fuori dal campo ma questo vale per Muriel ma vale per tutti però ripeto le sue dichiarazioni mi sembrano sempre un pochino le sue dichiarazioni che leggo arrivano sempre da fuori mi ricordo io arrivai quest'estate e mi riportaste voi delle dichiarazioni che aveva fatto in Colombia non so cosa poi io chiesi a lui e lui mi disse no mister ma quindi non mi permetto di dire che non sono vero perché non lo so ma voglio solo sottolineare che ogni volta che va via da Udine ci sono delle dichiarazioni chiamiamole particolari ma io taglio la testa al toro e ti dico che finché lui è un giocatore dell'Udinese e lo sarà perché ha un contratto lungo fa quello che dice l'allenatore dell'Udinese e fa quello che dice il presidente dell'Udinese ecco anche in questi cinque mesi sono stati fatti debuttare dei nuovi giocatori anche dei giovani ne restano ancora molti così presumibilmente da far debuttare da far debuttare quali sono i più pronti? ma guarda parlando della nostra situazione io credo che con questa emergenza a centrocampo perché comunque con la squalifica di Giampiero e la convocazione che credo sia per noi ormai diciamo non riusciremo ad avere la disposizione di Badu sicuramente il nostro centrocampo arriverà la gara con la Roma toccando ferro comunque con i giocatori contati quindi in questo c'è un profilo il profilo di Alberg è sicuramente il giovane che in questo ruolo come è stato finora chiuso perché ha tanti calciatori importanti davanti ma è un giocatore che si sta allenando bene è un giovane molto interessante che abbiamo preso che la società ha preso dalla della Serie A del suo paese che ha già giocato tante partite in prima squadra quindi potrebbe essere uno dei giovani più interessanti che ancora non hanno esordito io vorrei parlare di Di Natale che Di Natale nel 2014 è stato ancora una volta decisivo senza di lui probabilmente l'Udinese sarebbe arrivata vicino al Baratro ma senza senza di lui lontano da casa non segna in trasferta dal 10 di maggio e in trasferta nel 2014 ha fatto solo due gol uno su rigore ma ho visto un'altra Udinese senza di lui non è che tu abbia in mente un Udinese fuori casa in casa è determinante lui fuori casa con Di Natale part time cioè con altre soluzioni non con lui assolutamente in campo io questo discorso l'ho già sentito bisogna andare cauti nel senso Totò per noi è imprescindibile come calciatore e ha dei valori assoluti il problema non è Totò ma è la squadra nel senso noi in casa riusciamo a mettere la nostra punta centrale più in condizione di di avere delle palle da capitalizzare in area di rigore e lui su questo è il numero uno sicuramente in Europa perché io credo che la media che ha Totò di palle calciate verso la porta a gol sia qualcosa di impressionante e questo sicuramente è un patrimonio che noi non ci rinunceremo non ci rinunceremo mai fuori casa è innegabile che l'Udinese ovviamente per il valore dell'avversario e per la differenza delle partite spesso facciamo fatica a servire alla nostra punta centrale dei palloni giocabili come in casa e quindi probabilmente lui è quello che soffre più di tutti come caratteristiche questa lacuna della squadra quindi è normale che ci può stare che qualche partita lui possa anche subentrare per magari fare per essere un'arma in più a partita in corso però questo ripeto e ci tengo a sottolinearlo è un problema dell'Udinese cioè se noi riuscissimo ad essere così pericolosi anche fuori casa Totò sarebbe sicuramente in condizione di far bene in qualsiasi partita quindi è normale che per noi è una risorsa ma potrà succedere che qualche partita lui anche fuori casa anche per una questione di gestione delle energie ce lo teniamo al 101% pronto però in questo ma credo che sia una cosa onestamente che fosse già successa anche qualche volta in passato che anche quindi secondo me è una cosa normale Totò è per noi il nostro terminale offensivo numero uno e ci tengo a precisare che oltre al suo dato statistico di essere il miglior marcatore del campionato italiano di tutto il 2014 c'è anche un altro calciatore che è Allan che è il miglior recuperatore di palloni dell'intera Europa quindi questo adesso è una cosa che ci fa piacere perché due nostri calciatori sono in vetta le classifiche italiane ed europee come numeri e i numeri insomma in questo almeno non mentono sì sì no ma adesso la tua domanda era chiara solo che avevo sentito anche altre volte l'udinese fuori casa fa bene senza di Natale ma non è questo il punto cioè è che noi soffriamo tanto e non riusciamo ad avere non riusciamo a rifornire un attaccante con le sue caratteristiche quindi è io la vedo a rovescio è un nostro limite e lui soffre una carenza della squadra buongiorno mister le chiedo solo due parole sul percorso di crescita di evangelista visto che si parla agli attaccanti che potrebbero partire se lui potrebbe essere appunto un sostituto oppure se secondo lei è ancora acerbo per un impiego non dico da titolare chiaramente ma comunque più continuato ma guarda io sono un grande sostenitore un grande estimatore di Lucas Evangelista l'ho dimostrato lanciandolo anche in partite difficili innanzitutto non può essere un sostituto immediato perché sparisce fino a a marzo no a fine scusate a febbraio ma sparisce per un motivo di grande orgoglio per l'Udinese perché io penso che avere un calciatore in una nazionale under brasiliana di primo livello non giovanile vuol dire che l'Udinese ha in mano un grande talento perché sappiamo che da quella nazionale escono i migliori giocatori del mondo lui non fa con tutto rispetto il terzino destro ma fa il trequartista nella nazionale e lo fa molto bene quindi credo che Lucas può essere un prospetto veramente importante per l'Udinese che a me piace tanto ma per rispondere alla tua domanda non è un attaccante lui è un giocatore che agisce o alle spalle di una o alle spalle di due punte e può secondo me giocare molto bene nel nostro campionato anche da esterno perché ha questa capacità incredibile di saltare sempre il primo uomo e è bravo andare sia a destra che a sinistra è un mancino atipico perché usa anche il destro e sicuramente è molto giovane lasciamolo crescere però a noi è un giocatore a me è un giocatore che piace tantissimo ma a noi è un giocatore che piace tantissimo e invece Cone più arretrato a centro campo è più un esperimento o può diventare una soluzione anche definitiva visto le qualità che ha sia di grinta sia anche dopo di impostazione ma guarda Cone per noi è un giocatore importante io credo che lui abbia pagato questa lui era partito molto forte anche nel momento in cui siamo siamo stati dopo con la nostra ottima partenza Cone era un punto fermo dell'Udinese dall'infortunio contro il Cesena dall'infortunio contro il Cesena quello al flessore in cui è uscito dopo dieci minuti nella partita in casa col Cesena di campionato lui non si è probabilmente più ripreso bene fino a domenica scorsa perché ha avuto prima quell'infortunio poi la frattura del setto nasale insomma sicuramente ha avuto dei problemi per quanto riguarda il ruolo no noi l'abbiamo preso per giocare interno di centrocampo nel 3-5-2 che era il ruolo che lui ha ricoperto già nel Brescia e nel Bologna quindi la sua io credo che domenica lui a Genova abbia giocato nel suo ruolo quello per cui è stato preso e se vi ricordate era anche la posizione con cui giocò contro la Juventus anche se in quella partita andò male ma nel 3-5-2 diciamo lui è l'interno che dà più supporto agli attaccanti calcolando che l'altro interno magari dà un po' più di equilibrio però quella è la sua posizione Ministro del 2014 penso che sia stato un anno importante per lei sia sotto il profilo calcistico che sotto il profilo personale dal punto di vista calcistico puoi esprimere un desiderio per il 2015 quale chiede per se stesso e che non sia semplicemente far bene questa risposta non è ammessa io ovviamente ho tolte i propositi personali che in questo momento riguardano solo mio figlio non me ne voglia mia moglie sono 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 esclusivamente di io ho un verbo in testa è un verbo nella mia testa che è costruire 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 un Udinese un Udinese importante perché è il motivo affascinante che mi ha non mi ha fatto esitare un attimo quando ho parlato con la famiglia Pozzo è una cosa in cui credo e che penso dal primo giorno in cui sono che sono arrivato qui per me questo è una sorta di anno zero di primo anno per ricostruire un ciclo importante dell'Udinese perché questa è una grandissima piazza e alle volte paghiamo adesso che sono qui da 5-6 mesi alle volte paghiamo una carenza di mediacicità che magari c'è in altre città e che magari non è qui ma le cose che facciamo noi secondo me sono veramente importanti in relazione ai mezzi anzi strabilianti in relazione ai mezzi che l'Udinese ha e quindi il mio obiettivo per il 2015 è costruire che vuol dire salvarsi salvarsi bene e da questa squadra inserendo quello che abbiamo in testa io e il Presidente costruire un Udinese che possa ritornare a far bene e come ha detto il nostro Presidente un domani non avere come obiettivo la salvezza che oggi però è la nostra cosa principale perché ci permetterà di costruire quindi prima raggiungiamo questa salvezza e prima possiamo pensare a costruire insieme un Udinese volevo legarmi un po' alla domanda della collega per dirle appunto lei ha parlato di anno zero non questo e quindi stando però alla classifica che è come diceva Guido Comiglato molto buona e stando però si è visto un po' che la squadra è in rodaggio perché ci sono state partite con alti e bassi però la classifica fa ben sperare voglio dire cosa si può fare di più sperando nel 2015 e negli anni a me non piace in questo né fare programmi né illudere perché noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra secondo me siamo una squadra che ha ancora tantissimo da lavorare e non dobbiamo in questo mai abbassare la guardia perché basta perdere due partite e poi essere in difficoltà quindi restiamo con i piedi per terra ma io quando parlo di anno zero perché? primo perché ne parla anche il mio club nel senso noi ne sono cose che condivido sempre con la società è normale che l'Udinese ha probabilmente va a finire un fantastico periodo anche nella ricostruzione di nuovi campioni perché noi in questo abbiamo avuto dei campioni che sono ancora in questa squadra come Totò Di Natale Maurizio Domizzi giocatori importantissimi ma anche lo stesso Danilo quindi la forza Giampiero la forza dell'Udinese deve essere riuscire a ricostruire un ciclo con i nuovi di Natale i nuovi Domizzi ma non non fraintendetemi per cercare di riportare l'Udinese a quei traguardi in cui questi giocatori fantastici insieme ad altri hanno portato l'Udinese ad obiettivi più alti della salvezza però in questo come dice sempre il nostro presidente il nostro obiettivo è la salvezza cerchiamo di costruire qualcosa che possa con tutti i nostri giovani ridare questa la costruzione di un ciclo importante non sarà facile non sarà facile ma quando la tua collega mi chiede nella mia testa c'è la parola costruire io sono qui per un progetto biennale spero che sia molto più lungo ma in questo progetto il denominatore comune deve essere costruire qualcosa per riportare l'Udinese a poter lottare anche per qualcos'altro oltre che la salvezza ma oggi perché siamo consci dei limiti che abbiamo e di quanto c'è da lavorare per costruire io lo chiamo anno zero perché deve essere l'anno con cui poni le basi per qualcosa che arriverà ma ti devi salvare e ti devi salvare prima possibile perché la salvezza quando arriva per tempo ti permette di programmare e non di stare con l'acqua alla gola io so per certo ovviamente non si possono condividere qui queste cose che l'Udinese ha chiari dei prospetti importanti per il futuro ci sono dei giocatori in giro importanti che l'Udinese segue salviamoci e costruiamo qualcosa di importante anche col nuovo stadio ecco sempre continuando su questo verbo costruire costruire significa anche iniziare da delle fondamente per avere anche prospettive molto più lontane di un biennio ecco in questo caso qual è la sua idea sui giovani italiani cioè ce ne sono qui tra le vostre squadre oppure in genere che cosa pensa si possa fare per riportare un po' di italiani nelle nostre squadre ma io credo che in questo l'Udinese nel calcolando io vengo da due piazze molto grandi come Milano e Roma quindi vedo la difficoltà anche per il lavoro di un settore giovanile come quello dell'Udinese di reclutare i migliori giovani in una parte d'Italia non popolosissima a livello di città e quindi io credo che l'Udinese abbia nel suo organico due grandissimi profili uno già esploso come Simone Scuffet e uno che ancora non ha esordito come Alex Meretta alle sue spalle che sono due se voi pensate che sono i due portieri della Nazionale Under 19 vuol dire che ad Udine sono concentrati i due migliori portieri del futuro quindi io credo che da questo punto di vista l'Udinese abbia già lavorato alla grande e secondo me anche nella gestione di questi ragazzi dimostra grande maturità la società perché la gestione di Scuffet secondo me e la gestione di Meretta sono delle gestioni oculate con intelligenza non tese a bruciare un talento ma tese a coltivarlo e a gestirlo per farlo esplodere e capitalizzarlo al momento giusto quindi io credo che l'Udinese per ora possa essere soddisfatta dei suoi giovani in assoluto che ci invidiano in tutta Europa sia italiani e sia non italiani bene così eh? sono stranieri che non hanno una parte eh no però Simone è un prospetto ma non sono adesso questo è un discorso più grande ovviamente magari non è questa la sede ma sono per gli italiani io sono per la globalizzazione no volevo dire no però volevo dire non sono se tu guardi la serie A non sono tantissimi gli italiani che esordiscono nelle nostre prime squadre di serie A di solito la processo è tutto prima squadra cioè arrivano alle solie prima squadra e vanno giù io sono io sono dell'idea che quando un club vuole vincere costruire qualcosa di importante magari potesse farlo con i friulani prima e con gli italiani poi ma alla fine dopo per tutti tifosi in testa conta il risultato e se il risultato è conquistato chiaro con gli stranieri benvengano anche gli stranieri l'importante è fare un progetto che abbia un avvenire era quello di cui parlavamo prima grazie grazie